Allora, il gioco con vittoria è sempre una buonissima cosa. Mi sono reso conto oggi di quello che sarà questo campionato che noi i miei ragazzi e io conoscevamo e penso che sarà un campionato di buonissimo livello. Siamo partiti molto bene, abbiamo fatto 15 minuti direi bene, con pressione alta e poi il gioco dispendioso paga, ci vuole una condizione ottimale che ancora non abbiamo perché abbiamo iniziato il 16 di agosto, i nostri avversari ho letto che avevano iniziato il primo di agosto quindi avevano 15 giorni in più nelle gambe e nell'arco della gara si sono visti perché hanno corso molto e ci hanno tenuti lì fino alla fine. Abbiamo avuto tante palle gol perché abbiamo una buona qualità davanti in fase di costruzione e la partita potevamo chiuderla prima, insomma, a noi piacerebbe chiudere le partite senza soffrire e in realtà quando le partite porti a casa va bene lo stesso. Questa partita ha detto comunque che dobbiamo migliorare tantissimo la condizione e continuare a lavorare di reparto perché a metà del primo tempo quando abbiamo smesso di lavorare bene davanti poi tutta la squadra ne è risentita e si è passata troppo. E comunque è una vittoria importante per i ragazzi, sono riuscito a fare i sette cambi che è sempre importantissimo per la gestione del gruppo.